Ben ritrovati amici di Tutandroid.net, quest'oggi focus su HTC One M9 e per la precisione sulle performance e sui problemi eventuali di surriscaldamento. Due tematiche molto discusse in questi giorni, tematiche molto calde dunque dove vogliamo chiarire tutti i dubbi dato che su questo One M9 che abbiamo in prova abbiamo l'ultima versione software ovvero quella che arriverà praticamente sul mercato. Questo video si dividerà dunque in più parti, una prima parte parleremo di benchmark dove vedremo un po' di risultati a confronto con OnePlus, Nexus 5 e Note 4 mentre poi faremo qualche test empirico quindi ad esempio Rial Racing 3, i tempi di apertura di quest'app e vediamo anche un po' velocemente la reattività di questo prodotto prima della recensione e poi andiamo a parlare di surriscaldamento quindi qual è la temperatura che HTC One M9 raggiunge quando viene utilizzato e stressato. Per misurare useremo questo termometro a infrarossi che ci permette appunto di rilevare la temperatura del prodotto con un errore di circa 2 gradi quindi diciamo un errore abbastanza accettabile. Direi dunque di partire e di andare ad analizzare le performance di questo One M9. Allora partiamo intanto con il dire le caratteristiche tecniche di questo HTC One M9 abbiamo uno Stamp Dragon 810 quindi octa-core con architettura 64 bit, abbiamo l'Hollipop quindi piene supportate e abbiamo una frequenza di clock da 1.56 GHz quindi inferiore rispetto alle possibilità di questo processore a Reno 430 la GPU e non dimentichiamoci anche 3 GB di memoria RAM e il display da 1080p da 5 pollici. Dunque il primo benchmark che andiamo ad analizzare è Geekbench 3 che valuta la CPU sotto due aspetti quindi con single core e multi core. Abbiamo ottenuto un risultato di circa 950 punti in single core e 3760 in multi core. Il primo dato è in sintonia con quello di altri smartphone come ad esempio Nexus 5 con l'Hollipop e OnePlus One anch'esso con l'Hollipop con la Cyanogen Mode 12 Nightly mentre in multi core questo One M8 dà sicuramente meglio di sé con circa 200 punti in più rifletta N5 e ben 500-600 punti in più rispetto a OnePlus One. Di conseguenza sicuramente le performance di questo smartphone pur parlando di benchmark quindi ovviamente considerate che si tratta di punteggi calcolati che possono essere diversi possono subire cambiamenti, possono non avere riscontro nella realtà comunque in questo caso HTC One M9 sicuramente ne esce vincitore. Poi il secondo benchmark che analizziamo è GFX che analizza le prestazioni grafiche qui abbiamo la Dreno 4.30, lo abbiamo paragonato questa volta a un Note 4 con la Dreno 4.20 purtroppo non abbiamo l'Hollipop a bordo quindi abbiamo fatto il test con KitKat e attraverso il Manhattan test a 1080p rileviamo che su One M9 abbiamo 21 fps in full HD e 22 fps invece nel Manhattan test classico. su Note 4 18 fps in full HD sempre con Manhattan e 11 fps invece con il test classico molto peggio invece Nexus 5 che si aggira intorno agli 11 fps. Di conseguenza anche da questo punto di vista One M9 ne esce vincitore ma c'è anche da dire che questo test è un po' drogato dal fatto che HTC One M9 ha un display full HD non 2K come il Note 4 di conseguenza ha meno pixel da gestire e potrebbe appunto avere un punteggio migliore per questo. Altro benchmark è AnTuTu 5 famosissimo per calcolare le performance generali abbiamo rilevato che One M9 ottiene un punteggio di 48.850 punti contro 48.174 di Note 4 e contro 38.270 di Nexus 5 insomma comunque anche qui One M9 diciamo che vince o comunque compete a testa alta con Note 4. Altro benchmark che andiamo ad analizzare è AndroBench 2 che ci permette di analizzare la velocità di lettura e scrittura di HTC One M9 abbiamo una lettura sequenziale a 227 MB per secondo simile a OnePlus One e simile anche a Galaxy Note 4 una scrittura sequenziale invece da 105 MB per secondo e questo è un punteggio davvero elevato perché è il doppio rispetto a OnePlus One e di poco superiore rispetto a Galaxy Note 4. invece nella lettura random 20 MB per secondo simile anche qui a OnePlus One Galaxy Note 4 e stessa cosa anche nella scrittura random con 12 MB per secondo quindi sicuramente HTC One M9 esce vincitore anche da questo test. Ultima cosa che andiamo a vedere è la quantità di RAM disponibile all'avvio abbiamo su One M9 1,8 GB disponibile contro 2 GB di OnePlus One e 1.7 GB di Galaxy Note 4 1,8 GB su 3 sono sicuramente buoni e permettono a questo HTC One M9 di essere sempre subito pronto per appunto iniziare a lavorare. Bene, questi sono i test sui benchmark, forse quelli meno importanti per quanto riguarda l'analisi delle performance ma che più o meno ci danno appunto l'evidenza del fatto che One M9 è superiore rispetto ad altri prodotti già disponibili sul mercato e questo è un fattore decisamente importante. Una cosa che poi ho notato molto durante l'utilizzo di questo smartphone è la sua reattività molto simile a quella di M8 ma forse un pelino superiore questa qui di M9 grazie probabilmente ai tre ingredienti principali 64 bit, lollipop che supporta 64 bit, ART volendo e anche l'ottimizzazione software di HTC che è sempre ai massimi livelli. Abbiamo comunque notato che rispetto a Note 4 abbiamo qualche secondo in più di caricamento durante i giochi più pesanti come le RS3 ma poi nel complesso, soprattutto nella gestione della RAM One M9 si comporta davvero bene e nell'apertura, nello spostamento tra una app e l'altra su One M9 davvero non dobbiamo aspettare praticamente nemmeno un secondo. A questo punto non ci resta che parlare di surriscaldamento di HTC One M9 essendo in alluminio dissipa abbastanza bene il calore ma noi sappiamo da rumors e da voci che girano sul web che One M9 scalda molto. In realtà quei test sono stati fatti sulla versione software precedente, questa che abbiamo noi è quella che arriverà sul mercato, di conseguenza i test che abbiamo fatto noi sono quelli che potrete fare anche voi una volta che andrete ad acquistare One M9. Abbiamo rilevato che con 10 minuti di navigazione su internet la temperatura dello smartphone si aggira tra i 25 e i 30 gradi quindi una temperatura ancora accettabile mentre dopo 6 minuti di registrazione di video in 4K la temperatura massima che il dispositivo raggiunge è sui 30 massimo 31 gradi quindi anche qui si comporta abbastanza bene. Probabilmente il tempo limite di 6 minuti per video è fatto anche a posto o forse per un limite di memoria. Poi abbiamo fatto un test con Real Racing 3 dove abbiamo rilevato purtroppo qui un surriscaldamento. In realtà dopo pochi minuti di gioco, se parliamo di 2-3 minuti, la temperatura si è girata sui 32 gradi quindi ancora accettabili. Dopo 5 minuti la temperatura si è alzata a 35 e poi abbiamo avuto un picco di 40 gradi dopo 10 minuti di gioco, quindi dopo 3 partite più o meno a Real Racing 3. Quindi nel complesso posso dirvi che HTC One M9 non scalda, non si scalda abbastanza. Poi sono comunque giornate abbastanza fredde quindi non si sente, non si percepisce poi tanto il calore. Considerando però che la temperatura rimane sui 30 gradi possiamo dire che è accettabile e per un utilizzo normale durante la giornata non crea problemi. Nel momento in cui però andiamo a chiedere uno sforzo maggiore ad HTC One M9 ecco che un leggero problema di surriscaldamento si fa notare. Appunto 40 gradi sullo smartphone in alluminio si sentono, si percepiscono e creano anche un po' fastidio soprattutto mentre si gioca. Nel complesso di conseguenza non possiamo lamentare di un grande problema di surriscaldamento ma comunque non possiamo nemmeno dire che non si scalda mai. In conclusione questo era il nostro test sulle performance e sul problema di surriscaldamento del HTC One M9, problema che non sussiste per il 90% dell'utilizzo mentre sussiste poi nel restante utilizzo. Uno smartphone che a livello di reattività, di performance e di resa generale del software sicuramente non vi deluderà. Se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare mi piace su questo video a iscrivervi al canale e a rimanere sintonizzati perché a breve arriveranno altri focus ma soprattutto la recensione di HTC One M9. E per momento è tutto, un saluto da Michele per TuttoAndroid.net